Grazie a tutti. Il segretario del PD, Raffaele Donini, invita Merola, che si appresta a parare un bilancio d'emergenza, salvaguardare i servizi alla persona e a mettere al primo posto il lavoro. A Castelmaggiore vanno all'asta strada Rotondo e Aiuole, l'azienda che ha realizzato le opere fallite ma il Comune non trova il documento utile per sospendere l'asta, il PDL punta al dito contro il sindaco Monesi. Al via la stagione del Cornale Scala è presente all'inaugurazione della stagione sciistica anche Alberto Tomba che proprio su queste piste ha imparato a sciare. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale. In primo piano la cronaca, ancora un'aggressione a sfondo sessuale a Bologna, vittima questa volta una ragazza di 17 anni, circondata dal branco e palpeggiata in un locale del centro storico, al servizio di Alessia Salvatore. Pesantemente palpeggiata in discoteca da uno sconosciuto mentre era in compagnia delle amiche. La vittima dei presunti abusi è una 17enne bolognese che la sera del 20 novembre ha denunciato alla polizia quanto accaduto poco prima all'interno di un locale nel pieno centro di Bologna. L'uomo, dopo un mese di indagini, è stato identificato e denunciato. La giovane ha raccontato di essere stata presa di mira da un gruppetto di tre uomini mentre si trovava con due amiche. Secondo il suo racconto sarebbe stata cerchiata dai tre e mentre due la tenevano ferma, il terzo l'avrebbe ripetutamente toccata nelle parti intime. La ragazza è riuscita a rivincolarsi e a chiedere aiuto alle amiche che hanno chiamato il 113. A quel punto però il gruppo si era già dileguato. Per sua sfortuna, alla scena ha assistito un testimone che ha descritto il gruppetto e fornito particolari utili agli agenti che sono riusciti a identificargli presunto molestatore, un meccanico bolognese di 48 anni, incensurato. Tra l'altro, qualche giorno dopo i fatti, la 17enne ha riconosciuto l'uomo in una foto pubblicata sulla pagina Facebook della discoteca per pubblicizzare la serata del 20 novembre. Un'altra indicazione preziosa è arrivata dal testimone che durante le moleste ha sentito il soprannome con cui gli amici chiamavano l'uomo. Il meccanico è stato rintracciato e identificato in foto dalla 17enne, che successivamente l'ha riconosciuto in un confronto all'americana in questura. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per violenza sessuale su minore. Voltiamo pagina. Bologna è ancora allarme smog. Così come previsto scatta il blocco anticipato già per domani. Poi si replica mercoledì 4 gennaio. Sentiamo le indicazioni in servizio di Simone Gannese. Sulla qualità dell'aria proprio non ci siamo. La situazione ambientale e sanitaria sotto le due torri continua ad essere critica. Negli ultimi sei giorni a Bologna la soglia massima di PM10 è stata superata per ben quattro volte, toccando quota 67esimo sforamento annuo rispetto ai 35 consentiti. Tanti, troppi. Insomma, un vero record in negativo. Così la decisione del blocco della circolazione anticipato è quasi un obbligo. Si parte domani, 29 dicembre, e si replica mercoledì 4 gennaio dalle 8.30 alle 18.30. Il divieto di circolazione, come sempre, riguarderà tutti i veicoli più inquinanti, pertanto, con esclusione delle auto elettriche, ibride, a GPL, a metano, Euro 4 ed Euro 5, diesel Euro 3, se dotati di filtro antiparticolato, esentati dal divieto anche i ciclomotori ed i motoveicoli Euro 2 ed Euro 3. La scelta, quasi obbligata, come dicevamo, di anticipare il blocco per avere risultati più immediati ed efficaci, è stata assunta in sintonia con gli altri comuni coinvolti nell'accordo regionale per la qualità dell'aria, così come già fissato nella riunione dello scorso 16 dicembre. La CISL di Bologna invia una lettera al ministro dell'Interna, Maria Cancellieri, e chiede un contributo per le scuole paritarie comunali. Il segretario della CISL, Alessandro Alberani, ha parlato questa mattina, ospite della prima edizione del nostro giornale, Alberani poi ha toccato anche altri temi, ma sentiamo uno stralcio del suo intervento al nostro telegiornale delle 13.45. Le scuole materne paritarie comunali, quasi tutte praticamente le materne, a Bologna vengono pagate dal comune e non dallo Stato come avviene in altre città. Era un tema che avevamo già sollevato la dottoressa Cancellieri quando era sindaco. Oggi ha un ruolo importantissimo nel governo, quindi domani noi scriveremo, l'abbiamo presentata oggi la lettera, scriveremo al ministro dell'Interno Cancellieri per chiedere un contributo straordinario per le materne comunali. Si tratta di più di 200 sezioni, che potrebbe essere un introito, se accettato, molto forte per le casse del comune. Quindi credo che sia un'azione di responsabilità che ci siamo assunti, che se va a buon fine potrebbe contribuire a sgravare delle spese sociali il comune di Bologna. Parliamo di lavoro, abbiamo sentito anche il segretario del PD Donini chiedere al sindaco di mettere al centro il lavoro. Anche voi chiedete un patto per il lavoro? Noi abbiamo presentato oggi le nostre idee per il patto per il lavoro. Partiamo dalla crisi, perché ci siamo molto dimenticati in questi giorni, parliamo molto di manovre, parliamo poco di crisi. E quando guardiamo i dati, 13 mila persone coinvolte dagli ammortizzatori sociali, una prospettiva di disoccupazione che arriverà alla soglia delle 80 mila all'inizio dell'anno, fa dire che c'è una grande crisi. Su due settori, intanto quello della crisi vera e propria, quindi bisogna intervenire con formule di sostegno al reddito per le persone, le famiglie e i lavoratori colpiti dalla crisi. Poi bisogna trovare uno strumento che anticipi il monitoraggio di queste crisi, ma soprattutto bisogna stabilizzare il lavoro, perché soltanto il 15% dei lavoratori che si avviano all'impiego hanno il contratto a tempo indeterminato. Questo non può reggere, quindi noi chiediamo immediatamente di aprire un confronto con le associazioni di impresa per vedere di stabilizzare maggiormente il lavoro per i più giovani. Queste dunque le parole del segretario della Cisla, Alessandro Alberani, ospite dell'edizione delle 13.45 del nostro telegiornale. Parlava di lavoro e di lavoro parla anche il segretario del PD, Raffaele Donini, che chiede al sindaco Merola di mettere al centro dell'agenda il lavoro e anche di salvaguardare i diritti alla persona nel bilancio che si appresta a varare. Vediamo il servizio. Segretario Donini, in Merola si appresta a varare questo bilancio lacrime e sangue. Lei cosa gli chiede? Questo intanto si tratta del bilancio più difficile della storia del Comune di Bologna e penso che le cifre che l'amministrazione, lo stesso sindaco, ha reso noto ieri siano drammatiche quando si parla di circa 70 milioni di euro che vengono meno da parte dello Stato. Credo che la priorità debba essere quella di salvaguardare i servizi alla persona, le scuole e le infrastrutture, ma ancora prima di creare occupazione. Quindi io metto al centro dell'agenda politica del 2012 il patto per il lavoro che deve essere primo e parte integrante del nuovo disegno strategico della città. Il caso Lombardelli è definitivamente chiuso? Mi pare che ci siano le opposizioni a Bologna che non si stiano occupando d'altro. Io penso che c'è un'inchiesta in corso, ci sarà probabilmente anche un'indagine della Corte dei Conti, visto l'esposto, ma quello che a me pare sottolineare è che si sia davvero di fronte a un caso di buona fede da parte di Marco Lombardelli, chi lo conosce lo sa, è abituato ad agire così, in buona fede, e quando si è accorto di questa non equipolenza del suo diploma con quello certificato è stato il primo a farlo notare e poi appunto si è dimesso per una mancanza anche di serenità. Quindi stiamo parlando di un'amministrazione che comunque è un'amministrazione trasparente e di persone la cui stima e capacità non credo di essere messa in discussione. I danni erariali segnalati nel 2011 alla Corte dei Conti in provincia di Bologna hanno superato i 22 milioni, oltre a caso dei parcheggi ATC, circa 17 milioni non destinati al Comune di Bologna. Negli ultimi 13 anni dall'azienda di trasporto pubblico, la Guardia di Finanza ha trovato irregolarità nell'acquisto di un immobile destinato a un ente statale, acquisito per 3 milioni e utilizzato solo in parte, oltre che nella gestione di un edificio di proprietà di un altro ente destinato a finalità sociali. 22 persone poi sono state denunciate per false autocertificazioni in materia di prestazioni sociali agevolate. Anche a Bologna le Fiamme Gialle hanno riscontrato diversi casi di dipendenti pubblici che hanno svolto attività economiche in forma privata senza autorizzazione da parte delle amministrazioni, denunciato anche un titolare di una concessionaria di auto per incentivi indebitamente riconosciuti superiori a 100 mila euro. E a Castelmaggiore vanno all'asta strade, aiuole e rotonde. Il PDL accusa il sindaco Monese. Vediamo. Il prossimo 31 gennaio al Tribunale di Firenze verranno messe all'asta aree del Comune di Castelmaggiore attualmente utilizzate come strade marciapiedi. L'azienda che realizzò queste opere è fallita nel 1998. Di conseguenza le strade sono sue e vengono messe all'asta perché non si trova il cosiddetto atto di impegno con cui il Comune formalizza l'intenzione di entrarne in possesso. A sollevare il caso il consigliere regionale Galeazzo Bignami e il consigliere di Castelmaggiore Leo Cataldo. Normalmente basta dimostrare con un documento che viene redatto al momento della stipula che questi beni sono passati nella proprietà del Comune per evitare che vengano trattati come dei beni normali vale a dire da liquidare per poi dividere gli utili tra i creditori. Invece il Comune di Castelmaggiore non ha questo documento e l'esito è che il 31 gennaio verranno messi all'asta come dei beni normali anche strade dove sorge il Comune di Castelmaggiore via Pablo Neruda e delle rotatorie oltre che delle aiole sparti traffico e questo ci sembra davvero incredibile considerando che una persona potrebbe portarsela a casa con 70 mila euro. Riteniamo molto grave questo fatto perché oltre al dato che con 70 mila euro uno si può comprare una strada e lo riteniamo davvero folle il problema è che questo bene, contrariamente a quello che si pensa non è privo di valore. Al contrario la stima che viene fatta al Tribunale è di ben 830 mila euro nel caso un privato voglia andare a permutare col Comune questo bene il che dimostra come sarà un danno erariale per il Comune di Castelmaggiore e quindi significa per tutti i cittadini della provincia di Bologna. Sì, manca questo documento, ho provato a chiamare anche il curatore ferimentare che si occupa della vicenda anche loro aspettano con ansia questo documento perché se ci fosse, se arrivasse in tempo molto probabilmente quest'asta non ci sarebbe. si potrebbe bloccare l'asta e quindi non ci sarebbe l'asta ma dubitiamo che questo documento ci sia e quindi siamo tutti molto preoccupanti come il curatore ferimentare. Il Comune di Castelmaggiore darà battaglia per non farsi scippare dall'asta in programma il 31 gennaio al Tribunale di Firenze Strade e Rotonde che considera a suo e lo assicura l'amministrazione in un comunicato stampa in cui si spiega che procederà con azioni legali per tutelare l'interesse pubblico e evitare sborsi di risorse finanziarie della collettività. La cronaca sballeggiata. Lunedì notte la pellicceria Tassinani di Via 21 Aprile alla periferia di Bologna. I ladri hanno avuto il tempo di bucare la parete del negozio attivo e di razziare pellicce e cappotti per oltre 20 mila euro. Un brutto risveglio per il titolare. Un bolognese di 59 anni che ieri mattina all'apertura non ha potuto fare altro che constatare il furto. alla notte del furto è scattato l'allarme e i carabinieri sono andati a controllare ma dopo aver verificato che all'esterno tutto sembrava a posto sono andati via. Il titolare che ha detto di essere assicurato aveva inoltre dimenticato il telefonino all'interno del negozio sull'episodio Indaga la Polizia. L'ultima pagina ha preso il via la stagione del corno alle scale presente all'inaugurazione della stagione scistica anche Alberto Tomba. Vediamo. Al via la stagione del corno alle scale all'inaugurazione non poteva mancare Alberto Tomba che proprio su queste piste ha imparato a sciare e si è preparato per le sue imprese mondiali. Cosa si impara? Devi chiedere a papà Franco e lui fin da piccolo come fratello siamo venuti qua in Apennino, comodi da Bologna e le prime gare eravamo qui e qui ho cominciato e ho finito la carriera quindi c'ho qualcosa nel cuore dell'Apennino è un peccato che così adesso è mancanza di neve qualcuno si dimentica di questi posti stupendi qua a pochi passi dalla città e preferiscono altri posti però attenzione nevicherà più presto perché c'è bisogno c'è bisogno di ritornare ai vecchi tempi quando c'era Alberto che portava trascinava tanti fan e gente che ama questo sport che non è poi facile comunque ci sono tanti appassionati di sci e questo è molto bello qua in Apennino. Molte le novità di quest'anno al Corna le scale tra queste anche l'elitaxi il servizio di elicottero che con una sola giornata di preavviso preleva lo sciatore a casa lo scarica direttamente sulle piste. Sì, l'elicottero è la novità di questa stagione 2011-12 il centro benessere che è un'altra esclusiva del Corna le scale e la possibilità appunto di passare qui anche in quota vacanze sia sugli sci che sulle ciaspole perché sempre di più la neve è fatta anche di benessere di passeggiate, di alta montagna di centri benessere e ovviamente di enogastronomia quindi un'offerta che va sempre più incontro anche al cambiamento della domanda che c'è nel pubblico e soprattutto una grande attenzione al prezzo Speriamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio tra poco Di nuovo in studio con ETG prima di andare avanti rivediamo i titoli principali della giornata Aggredite e palpeggiate in un locale in pieno centro a Bologna vittima una 17enne bolognese il molestatore identificato dal soprannome e dal confronto all'americana La Cisle di Bologna invia una lettera al ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri e chiede un contributo per le scuole paritarie e comunali servono 15 milioni di euro sottolinea il segretario Alessandro Alberani Il segretario del PD Raffaele Donini invita Merola che si appresta a varare un bilancio di emergenza salvaguardare i servizi alla persona e metterà al primo posto il lavoro A Castelmaggiore vanno all'asta strade rotonde e aiuole l'azienda che ha realizzato le opere fallita ma il comune non trova il documento utile per sospendere l'asta il PDL punta al dito contro il sindaco Monesi Al via la stagione del corno alle scale presente all'inaugurazione della stagione scistica anche Alberto Tomba che proprio su queste piste ha imparato a sciare Andiamo avanti con il giornale In tempi di crisi economica Coppa Adriatica sostiene i lavoratori in difficoltà e proroga fino al 22 aprile lo sconto del 10% sulla spesa Intanto Sigma lancia un'operazione con sconti fino al 25% a favore dei consumi in servizio di Alessio Salvatore Anche nel 2012 Coppa Adriatica sosterrà con lo sconto del 10% sulla spesa i lavoratori colpiti dalla crisi occupazionale persone licenziate in cassa integrazione con contratto di solidarietà precari con contratto non rinnovato o autonomi che abbiano cessato la propria attività La cooperativa ha deciso infatti di prorogare fino al 22 aprile l'iniziativa solidale che offre buoni settimanali validi in 171 punti vendita in Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Abruzzo per una riduzione del 10% sugli acquisti fino a un massimo di 60 euro di importo e che consentono quindi un risparmio di circa 24 euro al mese Da quando è stata varata questa iniziativa ha trasferito benefici complessivi per circa 3,2 milioni a quasi 28 mila lavoratori in quattro regioni per un risparmio medio di 114 euro a testa A Bologna ne hanno usufruito in tutto 15.700 persone per oltre 1,8 milioni di euro La riduzione del 10% sullo scontrino è valida su qualunque prodotto compresi gli articoli già in promozione eccetto farmaci, giornali e riviste che per legge non possono essere scontati Per godere dell'iniziativa occorre essere soci di Copa Adriatica chi non lo è già può associarsi ricevendo un buono spesa che compenserà totalmente l'importo versato per la quota sociale E in tempi di crisi economica anche Sigma protagonista della distribuzione organizzata con una rete di oltre 2.000 punti di vendita in Italia lancia a favore dei consumi l'operazione esclusiva Dal 27 dicembre al 15 gennaio per ogni 10 euro di spesa nei supermercati Sigma e Coal il cliente riceverà un buono da 2,50 euro buoni che potranno essere utilizzati dal 16 al 31 gennaio uno per ogni 10 euro di spesa con uno sconto sulla spesa fino al 25% L'ordine dei medici di Bologna ribadisce le accuse nei confronti del sito di offerte online Groupon e in particolare punta il dito contro i medici che collaborano con il sito Vediamo Promette il pugno di ferro contro i medici che offrono i loro servizi su Groupon Il presidente dell'ordine dei medici di Bologna Giancarlo Pizza non ha dubbi non possono apparire accanto ad informazioni di tipo commerciale Dobbiamo chiarire immediatamente che Groupon fa il suo lavoro che agire sul mercato per proporre prodotti di qualunque natura dal gelato alle visite è un tentativo di penetrazione che può essere di utilità per chi intende penetrare il mercato ma l'ambito sanitario gli è precluso perché i medici non possono assolutamente apparire accanto a informazioni di tipo commerciale perché il codice deontologico lo proibisce quindi la nostra azione non è contro Groupon è contro quei medici che venendo contro il codice deontologico accettano di apparire accanto a spot di natura commerciale tant'è vero che l'ordine convoca tutti i medici che compaiono io ho mandato alla segreteria di ricercare tutti i giorni eventuali comparse e li convochiamo e li portiamo in commissione di disciplina ovviamente per chi è capitato per la prima volta in questa rete non vedrà accadere praticamente nulla meno di un buffetto ma sarà invitato a non ricaderci per i recidivi ma ancora non ne abbiamo certamente il discorso sarà completamente diverso devo dire anche che il ministro della sanità Balduzzi ha sostenuto in una intervista che è stata pubblicata a tempo addietro sulla stampa cittadina e nazionale ha sostenuto come assolutamente sana l'iniziativa dell'Odine dei Medici di Bologna perché volta al controllo delle informazioni sanitarie quindi un medico non può assolutamente collaborare con Groupon? non solo con Groupon ma non può lavorare con chiunque proponga di aggiungere il proprio stemma il proprio emblema al suo nome perché quello del medico è un nome importante coperto e garantito dal codice deontologico e quindi da una serietà di fondo che non può essere spesa per aspetti commerciali lo spettacolo parliamo delle programmazioni dei teatri di palcoscenico in onda questa sera alle 23 circa sul canale 10 al centro di questa nuova puntata tanta comicità a cominciare dal Capodanno Riddens all'Europa Auditorium con i fichi d'India Migone Pizzocchi e Vasumi poi Raffaele Paganini in scena al consorziale di Budrio con un americano a Parigi Vito all'Arena del Sole con Aldutaur di Matt ma anche Zuzzurro e Gaspare al Duse tanti altri gli appuntamenti con tanto di brindisi con gli artisti a fine spettacola appuntamento quindi questa sera con palcoscenico in alle 23 circa sempre ovviamente sul canale 10 ci fermiamo un attimo e poi di nuovo in studio con ETG a tra poco in studio con ETG non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora siamo in chiusura andiamo a rivedere ancora una volta il riepilogo dei nostri titoli aggredite palpeggiata in un locale in pieno centro a Bologna vittima una 17enne bolognese il molestatore identificato dal soprannome dal confronto all'americano la Cisle di Bologna invia una lettera al ministro dell'interno alla Maria Cancellieri chiede un contributo per le scuole paritarie comunali servono 15 milioni di euro sottolinea il segretario Alessandro Alberani il segretario del PD Raffaele Donini invita Merola che si appresta per il bilancio di emergenza a salvaguardare i servizi alla persona e a mettere al primo posto il lavoro a Castel Maggiore vanno all'asta strade lottonde aiuole l'azienda che ha realizzato le opere fallite ma il comune non trova il documento utile per sospendere l'asta al PDL punta al dito contro il sindaco Monesi al via la stagione del corno alle scale presente all'inaugurazione della stazione scistica anche Alberto Tomba che proprio su queste piste ha imparato a sciare ed è tutto con questa edizione del nostro giornale grazie per averci voluto seguire a tutti voi una buona serata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.